Eccola qua! La nuova arma mitica! Le nuove armi mitiche sono fighissime comunque! Benvenuti in questo nuovo video della season 7 in cui io ho dei capelli stranissimi Mi raccomando codice Octi nello shop se non avete ancora shoppato il pass battaglia e non vedete l'ora di shopparlo Codice Octi nello shop, ricordate di metterlo perché scade ogni 14 giorni Sono qua con Zerk e Giambi e raga non ho ancora fatto una sola partita nella season 7 Infatti come vedete sono livello 1 e mi manca tutta l'XP per arrivare a livello 2 Non ho mai fatto una sola partita Infatti ora andremo e proveremo tutte le armi mitiche della nuova season Voi direte ma Octi ma come vai a sapere dove sono le armi mitiche se non hai mai giocato? Tranquilli tranquilli io so tutto Ragazzi cercate di aiutarmi nei commenti perché io non so niente di questa nuova season Quindi datemi dei consigli qualcosa L'unica cosa che so è che proprio in questo punto Oltre che c'è questo tipo che non so chi sia C'è la dottoressa Sloan E la dottoressa Sì e infatti è qua Aia 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 E la dottoressa Sloan ha un'arma fortissima È un'arma mitica che dobbiamo assolutamente ottenere e provare Ma? Se trovi delle armi per favore dammelo perché io sono senza nulla Anch'io sono senza Non ho un'arma Ma ho un'iscrizione al canale di Octi Quindi raga mi raccomando se non siete ancora iscritti Iscrivetevi al canale Uh Ho trovato il Bampa Eccolo qua Un'altra guardia Comunque queste guardie non sono molto sveglie devo dire la verità Ah Ma sono le vecchie guardie Quelle che una volta erano fortissime che davano fastidio a tutti Stanno arrivando dei nemici Stanno arrivando dei nemici Dove? Le slot machine Ma che? Quali slot machine? Di cosa stai guardando? Che figata Ho potuto decidere Ho ucciso il gibbone E' vero? Ci sono dei slot Giambi tieni Ma vedete che ci sono dei passi C'è qualcuno qui nelle vicinanze Ecco Attento Octi Quando vedi questo raggio Significa che hanno buttato una palla Che ci vede dove siamo dentro il raggio di azione Eh Ah Ok ho capito quale Ho capito Quindi attento Ho ucciso Ah un'arma viola è mia Un'arma viola è mia Tu mi è morto Vieni Octi Ce n'è un altro Ok Ucciso uno Buono Ti ho aiutato Raga Raga Stra intensa sta season Poi con la musica così Octi aiutano no materiali per favore Già a livello 2 io sono Eh però Siete entrammi degli scassoni Eh ve lo dico Eh sono un po' Sono un po' raffreddato Oh no Hanno rianimato Da qualcuno Dai Octi Non puoi fare altro Devi assolutamente andare a pushare Sto andando Zerek Ma non lo trovo Ho trovato la dottoressa Slove Ma c'era un passaggio segreto Sì Ma Ma quante sono Ma quante sono Ma quante sono Ma cosa Ma Ma non prende danno Non prende danno Perché non prende danno Aiuto Non prende danno No mi hanno ucciso I nemici I nemici Ma No quelli erano i due Che ci avevano ucciso Sì Ok Ma Giambi Ma perché erano i due Quelle dottoresse Perché non prendevano danni Ma non mi sto tutto Ah ma neanche loro li fanno danno Guardali Guardali Ma No non prende danno Forse prendono armi E danno solo con armi aliene Beh Ma mi si è ammazzata Bisogna fare più luce su questa faccenda Loro hanno un'arma mitica Che dobbiamo assolutamente provare Non possiamo sbagliare di nuovo Però possiamo iscriverci al canale Ogni like è un cappello in più Che mi taglio E che mi sistemo Quindi Diamoci dentro Eccola qua Eccola qua la dottoressa Arriva Dottoressa Dove sei? Ok Dov'è? Parità Ah eccola lì Ma si tippa Eh Quante sono? Sono tre Si moltiplicano Ok Una l'ho fatta fuori Due Anch'io Tre Ma ora prende danno dalle armi Eccola qua La nuova arma mitica No Ok Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo signori No Fammela vedere Vediamo come spara No non te la faccio vedere Vediamo come spara Ah ma spara come i fucili di Tony Stark Eh Ci hanno segnalato Ci hanno segnalato E noi segnalammo loro Ha ha Eccolo Ok Ok Non c'è più Ahia E' sopra Ok l'ho laserato Ok ucciso Ucciso Vai let's go No no li abbiamo uccisi Vai 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 Tutti Tutti Ma non ho scaracca Ma cos'è C'è un'altra Non capisco C'è un botto E' un tipo E' un tipo No no c'è un tipo C'è un tipo che cammina E' il cannone a rotaia E' fortissimo E' fortissimo Quell'arma lì è troppo forte Aspetta che gli butto le granate Vediamo se si riverta ancora A venire Vai vai Ok L'abbiamo segnalato Ma Giambi Ma sempre a morire Ok Ok ucciso Per fortuna L'ascensore L'ascensore Ma che cavolo Zerek vieni qua Zerek vieni qua Arrivo arrivo Ciao Noi No Non funziona Dai C'era una porta Non funziona Una porta Ma dov'è l'ascensore Questo non è un ascensore Non c'è un botto Le nuove armi mitiche Sono fighissime Comunque Ma certo se le condividere E' più gentile No io non le condivido Invece Ok va bene Andiamo su Ti prego Sì andiamo via Anche qua Che qua mi sa che arrivano Tutti solo per Oh 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 Cosa Un tipo Niente più Eh già ho pizzi 68 Sì però Ora c'è un problema Intanto lì c'è una jump Intanto lì c'è una jump E qualcuno deve andare A prendere quella jump Io ve lo dico Dobbiamo Fare vittoria Con tutte queste armi Le ho tutte Ho l'arma mitica Ho il cannone A impulsi Stratosferici Ho anche quello Per segnalare Scusate un attimo Ma avete visto Cosa c'è in cielo Ma che cavolo È questo Ma io me ne sono appena accorto Tipo Tipo Ma Ho detto Ma che cavolo Un coraggio rosso Cos'è Ragazzi ci sta Da dove Ah lì Oh mio dio Ma è un cannone Impulso Rotato L'ho ucciso L'ho ucciso Ma di brutto Ma in un modo È bruttissimo È bruttissimo L'ho ucciso Dai opti ce la possiamo fare Andiamo Beh invece Invece per quanto riguarda L'arma mitica Insomma Il cannone mi sembra Molto molto più Più forte Raga Ho bisogno di Scendini Pure Ma guardate che ho visto gente arrivare da quelle parti E dovete stare molto attenti Lo scudone lo vuoi io Sì 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 Mi date un me lo scudone No io lo scudone a te non te lo do Sei uno scarso Non ti sei dimenticato di usare il codice Opti nello shop E sarei andato a terra 87 volte in questa partita E fida di chi si vuole ad andare a terra 87 volte Ma tu ce l'hai fatta No Hanno valutato la fortuna Io ho dovuto sempre il codice Oh rega Ve lo dico eh Siamo in 30 rimanenti E noi possiamo vincere Quindi dobbiamo vincere Perché se non vinciamo Giambi Paga Paga Il passo a tutti coloro che mettono mi piace Usano il codice ottimo shop Io Non l'ho detto Giambi eh Ma ascoltate Venite con me Guardate ho trovato la macchina della dottoressa Sloan Serio? E ho fatto anche un Anche se non si fanno i ruti Non voglio Ah è stato veloce Signori È il momento di andare in safe zone E di andare a vedere lì Certo che comunque questa macchina sgomma tantissimo Oh ma è stra velocissima per essere una macchina normale Guarda va a 60 all'ora Sì guardando Devi trovare le ruote Eh ma sai che non so se ci sono ancora Ci sono ancora le ruote? Vediamo sull'autostrada Ci sono sulla strada Oh ma guarda che va a strada veloce Tanta all'ora per una macchina di fordite assurdo Assurdo Comunque mi fa piacere come mi aiutate nel Nello scalare Grazie comunque che mi accanto Eh l'ho spettato qua Oh 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 Ti mi hai lanciato via Bene ho fatto bene C'è uno shieldone Ma soprattutto Ma soprattutto C'è C'è una k C'è una k Dorato Ora Va bene lo prendo io Io sono staro Bellino Io voglio avere solo armi dorate Quindi ho deciso che mi prenderò anche questa k Anche se non mi serve C'è una jump Mi hai andato la prendere L'ho trovato a prenderla Ah no Sai quando i cinghiali Troppano i funghi Il bello è che non ho materiali Siamo in una partita di fordite Non ho materiali Oh dio Ma le torrette le hanno tolte E ci sono Oh mio dio Ci sono le jump Ci sono le jump Quelle fisse a terra Cioè Sappiamo che le avrebbero dovute aggiungere Ma Raga io ho una jump Comunque Oh si Voglio guidare io Zarek Cosa è questa cosa Zarek Fai benzina Fai benzina Guarda la Eh non ce l'ho La tanica ho detto Guarda la tanica Che cosa ho appena trovato Cos'hai trovato Dimmi un'arma mitica Vieni qui Ah un manufatto alieno Adesso vengo a raccoglierlo Serve per tipo Serve per tipo potenziare La skin tipo Capito Che bellissimo Dammi subito la macchina Cos'è che tu lo smetti di volare via ogni volta Che mi spingi a che voglia voi Vabbè Ciao Andiamo No no aspetta No no Io ti aspettavo Tu eri dentro la macchina Poi sei uscito Cavoli tuoi Ciao Dai Yuhuuu No No Giambi noi dobbiamo andare a fare la win Se tu ti perdi a fare cose che non c'entrano Cavoli tuoi Allora tu i materassi li prendi da qualche altra parte Ok No no Fatti chiare amicizia lui Dimmi che qua c'è qualche arma mitica Dorata Spaffolata Ma prendo gli uccidini dai li prendo io Va bene va bene va bene Oh aspetta un attimo Aspetta un attimo Cosa il cinghiale Ok ho ucciso Oh 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 Mi piace come mi buildi davanti così io non posso curarmi Cioè non posso Eh ma distrutto Ok va bene Cosa l'ho fatto Oh ma Questa cattiveria 89 89 gli ho fatto Ma Da dove Giambi Eh c'è un'altra Ah no al pollo Signori a volte È meglio andarsene La 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 Io me ne vado Perché ho un team di scarsoni Peccato No peccato niente Sei scarso Devi stare più attento Daiotti ce la puoi fare Ce la puoi fare Attenzione Modalità camperaggio Ecco il cinghiale diciamo non è di tuo aiuto Ma perché ora il cinghiale lascia un funghetto No io non lo so Ho visto anch'io Oh se ti dà pure shield Ma è di così Eh appunto Ma perché sono segnalato da cosa sono segnalato Eh perché mi hanno raccolto Eh hanno raccolto la cosa Allora office contro 10 persone Secondo me ce la puoi fare Signori ce la posso fare Sì ovvio che ce la devi fare Attenzione Vai Grande Cioè non le hai presi da un HS Ti rendi conto quanto è forte Sì ma Oh guarda qua È finita No 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 perché mi hanno sgiamato subito No Non abbiamo fatto la Winnie con le armi Allora Opinioni Il cannone Ci sta Carino Quello per segnalare Secondo me è l'arma più forte Che ci sia È bellissima Cioè è proprio bella È funzionale L'arma mitica Un po' lascia desiderare Devo dire la verità Devo dire la verità Mi aspettavo meglio Devo dire la verità Posso fare la mia opinione No a nessuno interessa La tua opinione Bella